Ciao ragazze, anche oggi vi voglio mostrare dei capi della linea Reservé, un brand 100% italiano, la camicetta in seta 100% con questa particolarità della tintura artigianale con allacciatura appunto sul retro e questi volant sul davanti e intorno al collo, mentre per quanto riguarda la gonna plissé, anche questa 100% seta e tintura artigianale, con questa particolarità del cintone seta e cotone gros. Ciao, alla prossima!